Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Questo 2021 segna per me i 10 anni da quando è nata la mia passione per la fotografia e ho preso per la prima volta in mano una macchina fotografica digitale. In questi 10 anni mi sono reso conto di aver incontrato diversi ostacoli nel mio percorso che mi hanno impedito di crescere e migliorare tanto velocemente quanto avrei voluto. Oggi voglio parlarvi di tre errori o potenziali trappole che ho incontrato sulla mia strada e che hanno in qualche modo influenzato negativamente il mio percorso con l'idea di evitare a tutti voi che mi seguite di ripetere i miei stessi sbagli. Il primo errore che mi ha impedito di crescere tanto velocemente quanto avrei voluto è stato pensare ma è ovvio che tizio riesce a fare quelle foto o a girare quei video spettacolari. Io non riesco perché non ho la macchina X o l'obiettivo Y. O, detta diversamente, avere l'errata convinzione che l'unico motivo per cui continuiamo a fare foto e video mediocri è che è la nostra attrezzatura a impedircelo e se solo potessimo usare il corpo macchina o l'obiettivo dei nostri sogni allora magicamente inizieremo subito a ottenere risultati migliori. Ecco, purtroppo con gli anni mi sono reso conto che non funziona così. Magari bastasse comprare l'ultimo modello di corpo macchina o obiettivo per diventare automaticamente fotografi o videomaker di livello top. Attenzione però, non prendete il discorso alla lettera come l'attrezzatura non conta per niente, basta l'esperienza e si può fare tutto con tutto. Non sto dicendo che non sia importante avere l'attrezzatura giusta in base al tipo di lavoro che si deve fare. Se voglio piantare un chiodo mica lo posso fare con un cacciavite. Quello che intendo è che l'attrezzatura non è altro che uno strumento e che di per sé non ci dà la garanzia automatica di ottenere un certo tipo di risultato perché poi lo strumento bisogna anche saperlo utilizzare. Prendete un pilota di Formula 1, mettetelo in pista sulla panda della nonna e vi farà dei numeri pazzeschi. Date una macchina di Formula 1 in mano a una persona normale ed è già tanto se riuscirà ad uscire dai box senza spegnerla. Figuriamoci completare un giro. Quindi, al di là di questa analogia, se sentite di non essere ancora al livello che desiderate, prima di puntare il dito solo verso la vostra attrezzatura e spendere inutilmente soldi nell'ultimo giocattolino tecnologico, ricordatevi che, a parte alcuni casi oggettivi, molto spesso i limiti che vediamo nell'attrezzatura sono molto probabilmente autoimposti e non effettivi e basterebbe focalizzarsi maggiormente sullo studio e sull'affinare l'occhio per avere una crescita immediata dei propri risultati anche continuando a utilizzare le cose che si hanno già. Sono sicuro che questo consiglio di non essere ossessionati dall'attrezzatura lo avrete sentito mille volte, in mille salse e da tante persone diverse. E se c'è bisogno di ripeterlo tanto spesso è perché questa convinzione è una delle più dure da superare sia per i principianti sia per chi ha già una certa esperienza. E anche sapendolo, anche avendo esperienza, comunque ogni tanto ci si va a ricascare. Non vi dico le volte in cui io stesso mi metto ancora adesso a desiderare ardentemente alcuni oggetti perché mi autoconvinco che il motivo per cui non riesco a fare un salto di qualità in certi aspetti del mio lavoro è legato al non avere la cosa X. Poi però vedo cosa riescono ad ottenere altre persone con attrezzature veramente di base e capisco che forse forse il problema sono io che devo solo applicarmi di più e sfruttare al meglio quello che ho già. Come detto, difficilmente se ne esce anche con l'esperienza ma almeno con l'esperienza si ha qualche strumento in più per accorgersene prima di fare danni e svuotare inutilmente il conto in banca. Il secondo errore che mi ha impedito di crescere tanto velocemente quanto avrei voluto è stato continuare a studiare, studiare, studiare senza però dedicare lo stesso tempo al mettere in pratica. Continuare a imparare cose nuove è fondamentale. Come dice Mattia Poglia con il suo motto Learn, Make, Repeat che io ho fatto mio traducendolo in studia, fai, ripeti, la fase di studio è fondamentale per crescere e aumentare il nostro bagaglio di conoscenze. Se però ci li mettiamo solo a studiare e non ci mettiamo mai a fare, come potremo interiorizzare e rendere i nostri concetti ascoltati solo in teoria? Rischieremo di diventare dei massimi esperti teorici sulla materia che poi quando si trovano davanti a un caso pratico non sanno da che parte iniziare ed è bene o male quello che è successo a me. Nella prima fase del mio percorso fotografico mi sono focalizzato molto di più sulla fase studia senza passare sufficientemente tempo nella fase fai con il risultato di trovarmi spesso in difficoltà perché avevo sì più o meno chiaro in testa il concetto teorico ma una volta sul campo quando era il momento di eseguire. Boh e adesso cosa devo fare? Il segreto di pulcinella per far crescere velocemente le nostre abilità è tutto qui. Dare la stessa importanza sia alla fase di studio di nuove tecniche, studio della composizione, delle immagini di altri fotografi o dei video di altri filmmaker sia alla fase di messa in pratica di quanto visto in teoria in modo da apprendere veramente come si fanno le cose perché è solo mettendo in pratica, facendo errori e imparando dagli errori fatti o come si suol dire sbattendoci la testa che possiamo veramente crescere e migliorare. La prova provata che questo è il modo giusto di procedere lo avete davanti agli occhi con questo canale YouTube. Quando ho iniziato tre anni e mezzo fa non avevo alcuna idea di come girare un video o di come stare e parlare davanti a una videocamera. I più coraggiosi di voi che sono con me fin dall'inizio si ricorderanno di video con pessima illuminazione, pessimi colori, pessimo modo di approcciarmi, pessimo modo di parlare eccetera eccetera. Continuando però ogni settimana sia a studiare cose nuove su come fare video ma anche e soprattutto continuando a fare pratica ecco che pian piano anche io sono migliorato fino ad arrivare a quello che vedete oggi che non è assolutamente un punto di arrivo, noto ancora tante cose che vorrei migliorare e fare diversamente ma è infinitamente meglio nel punto da cui sono partito. Il terzo errore che mi ha impedito di crescere tanto velocemente quanto avrei voluto è stato avere un eccessivo timore delle critiche e del giudizio degli altri sul mio lavoro. All'inizio del mio percorso infatti al di là di pochissime persone nella mia cerca familiare difficilmente facevo vedere ad altri le mie opere. Alla base c'era come detto il timore di ricevere un giudizio negativo e questo errore, questa mancanza di critiche da parte di persone più esperte di me, mi ha impedito di notare subito alcuni errori che poi mi sono portato avanti negli anni e che hanno rallentato la mia crescita. Il consiglio che mi sento di darvi quindi è di far vedere i vostri scatti o i vostri video a più persone possibili chiedendo attivamente una critica in modo da notare errori o cose da migliorare che, vuoi per inesperienza, vuoi per essere in qualche modo innamorati delle proprie creazioni potrebbero in qualche modo sfuggirvi. A questo punto però c'è da fare un'importante precisazione. Da un lato voi che chiedete le critiche dovete essere pronti a ricevere la critica e dall'altro lato chi fa la critica deve farla in maniera corretta in modo che sia una critica costruttiva e non distruttiva. Il tema del saper gestire e accettare le critiche è fondamentale. Molto spesso infatti mi è capitato di vedere situazioni come questa. Post di persona A che chiede una critica sul suo lavoro, altra persona B che risponde educatamente segnalando le cose da migliorare o piccoli problemi da correggere. Risposta dell'autore a questa critica con ah ma a me piace così? Beh caro mio se la tua risposta a chi ti fa una critica educata e motivata dietro tua richiesta è a me piace così tu non stavi chiedendo una vera critica ma solo un'approvazione da parte degli altri per accrescere il tuo ego. Quindi prima di tutto se vi mettete a chiedere delle critiche siate pronti ad accettare le osservazioni che vi faranno. Tutte le osservazioni? No. Specialmente al giorno d'oggi dove i social sembra che tirino fuori il peggio delle persone bisogna fare un'attenta distinzione tra le critiche distruttive che vanno ignorate ed evitate e le critiche costruttive che invece vanno cercate e ascoltate. Posto che a nessuno fa piacere ricevere una critica sul proprio lavoro o in generale sentirsi dire che si è sbagliato. Se la critica è fatta con educazione, con rispetto e mirata a segnalare tanto gli aspetti che abbiamo fatto bene quanto quelli su cui dovremo migliorare ecco che questa critica costruttiva può diventare uno dei più potenti strumenti di crescita che ci sono al mondo perché la persona che ci sta facendo una critica in questi termini ha a cuore la nostra crescita al punto di farci notare dove andare a intervenire per fare meglio la prossima volta. Ad esempio tante volte qui sul canale mi è capitato di ricevere commenti da parte vostra su cose da migliorare nei miei video e sono stati proprio quei commenti che mi hanno spinto a correggere delle cose che io non avevo assolutamente notato. Come detto però ci sono le critiche buone, utili ma anche le cosiddette critiche distruttive, critiche fatte da persone che hanno solo la voglia di sfogarsi, insultare e cercare di distruggere in qualche modo il nostro lavoro. Le prime volte in cui si ricevono critiche di questo tipo vi assicuro che ci si resta molto male e la tentazione più forte è quella di rispondere per le rime ma fidatevi di me, non fatelo, intanto passereste anche voi dalla parte del torto e secondariamente queste persone che scrivono cose così cattive su di voi perché spesso quando non hanno alcun altro appiglio vanno dritti sul personale o sul vostro lavoro lo fanno solo perché sono in qualche modo frustrati dai propri insuccessi e pensano di colmare queste lacune e insoddisfazioni atteggiandosi a bulli o insultando e offendendo il malcapitato di turno. Se ricevete una critica distruttiva di questo tipo ignoratela e a seconda di dove la ricevete cancellatela e bloccate per sempre la persona che ve l'ha fatta. Stessa cosa vi consiglio di fare anche se vedete questi atteggiamenti rivolti verso un'altra persona. Togliere voce e visibilità a questi personaggi è il modo migliore per renderli innocui. Ad esempio io qui sul canale non cancello mai i messaggi con le critiche costruttive perché per me sono fondamentali ma i per fortuna pochi che hanno scritto commenti sconclusionati e pieni di insulti rivolti a me o a qualcun altro dei miei utenti sono stati rapidamente cancellati e bannati dal canale. Addio, non abbiamo bisogno di gente così. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi che spero vi abbia dato degli spunti interessanti per non ripetere i miei stessi errori. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete commesso nel vostro percorso uno o più di questi errori, magari raccontate la vostra esperienza perché può aiutare sia me sia tutte le altre persone che guarderanno questo video. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!